100 anni dalla nascita degli ordini dei medici, una ricorrenza celebrata anche all'Aquila nei locali della facoltà guidata alla dottoressa Cifone, storico fiore all'occhiello dell'Ateneo. Una celebrazione stamani è stata occasione di incontro e confronto fra i professionisti sui temi caldi della sanità regionale, non solo a partire dall'irrisolta questione del crescente deficit. I medici purtroppo pagano sulla loro pelle questo problema perché noi da anni non abbiamo un ricambio quanto riguarda la professionalità, abbiamo un'età media negli ospedali e nei medici di famiglia e nei pediatri molto elevata e quindi io sono molto preoccupato come presidente che cosa possa accadere da qui a 10 anni perché avremo sicuramente l'allontanamento in tutta Italia di più di 110 mila medici e quindi avremo scoperto quella che è l'assistenza a tutti i livelli, ospedaliera, universitaria, di famiglia e anche libero professionale. E poi il crescente fenomeno della cosiddetta fuga dei cervelli che attanaglia il nostro paese e che impoverisce il sistema sanitario italiano. Alcune nazioni, specialmente l'Inghilterra, che anche loro hanno questo dramma della credenza di medici, offrono ai medici italiani, ma non solo a quelli italiani, anche a quelli pakistani e a quelli indiani, dei contratti che è vero che sono a tempo determinato, però offrono i contratti subito a tempo determinato che poi possono essere rinnovati e poi diventare a tempo indeterminato. E sicuramente un giovane medico che ha speso tanto, che ha studiato tanto, avere la possibilità di poter lavorare in questo modo è splendido. In Italia purtroppo questo non è possibile e quindi sono costretti a emigrare e noi perdiamo le migliori qualità che abbiamo in Italia. Le abbiamo creati, le abbiamo fatti grazie all'Università di Aquila, parlo dei nostri, grazie all'ordine che li ha seguiti e poi li perdiamo dopo che li abbiamo speso, abbiamo speso i nostri soldi, i nostri fondi, la nostra esperienza e andiamo a aiutare altre nazioni che sono in difficoltà. Grazie.